Benvenuto o benvenuta ad una nuova lezione di masterexcel.it. Oggi vediamo la formula subtotale. Quando dico formula subtotale intendo proprio quella che scrivi all'interno di una cella. Dico questo perché se andiamo su dati troviamo qui lo strumento omonimo chiamato subtotale. Si potrebbe anche chiamare funzione, però se chiamo anche la formula, la chiamo funzione, ovviamente si creano delle ambiguità. In questo video vediamo, come ho detto, la formula. Nel prossimo però vedremo lo strumento subtotale. Per comprendere bene lo strumento subtotale occorre comprendere bene la formula. Per comprendere bene la formula occorre andare nel sito della Microsoft. Ho già selezionato questa tabella. Come vedi il subtotale ha alcune funzioni media, contannumeri, contavalori, eccetera. E queste funzioni sono espresse in numero all'interno della formula subtotale. Lo vediamo dopo, non ti preoccupare. La coppio. Mi sposto nel mio foglio e la incollo. Ecco qua. Ora seleziono tutte queste tre, doppio clic, allargate. Benissimo. La funzione subtotale è in grado di fare dei calcoli che sappiamo già fare, come la media, la contanumeri, la contavalori, massimo, minimo, prodotto in effetti non ho ancora fatto un video, deviazione standard, deviazione standard sulla base della popolazione che più o meno non serve a nessuno, somma, varianza e varianza sulla base della popolazione, anche questa funzione serve a pochissime persone. Ma in che cosa differiscono queste funzioni, ovvero la media normale, la somma normale dalla somma subtotale e in che cosa differisce la somma 9 dalla somma 109. Come siamo dalla differenza tra questi due gruppi. Quello che dice il sito della Microsoft per tutte le funzioni dalla 1 alla 11 o dalla 101 alla 11 è che entrambe escludono dai calcoli i valori filtrati, ovvero se io qua dovesse applicare un filtro, a prescindere da quale sto utilizzando, i dati filtrati via, quindi quelli che non vediamo perché li abbiamo filtrati, non saranno inseriti nel nostro calcolo, a prescindere da quale calcolo facciamo. Dopo vediamo il calcolo 9, quindi la somma. Però tutte le versioni 100, quindi 101, 102, 103 e via discorrendo, ecco tutte le versioni 100 escludono anche i valori nascosti. Nascosti come? Però nascosti manualmente, quindi da qui vai e gli dici nascondi. E andiamo a provarle subito. Creiamo due colonne, ok. Proviamo la somma, visto che la conosciamo bene e credo anche sia la più utilizzata. Ora scriviamo la somma normale, quella che conosciamo tutti, di questa montare. Ok, mi dà 54.000 e qualcosa di più. Proviamo la somma 9 della subtotale, quindi uguale. Subtotale. Apro la parentesi. Mi compare questo menu che spero tu abbia nella tua versione. Io ce l'ho, quindi non mi devo ricordare i numeri a memoria. Dico somma, punta e virgola. Posso dare più intervalli, in questo caso solo uno, colonna C. Ok. Stesso risultato. Per quale motivo? Perché non ho applicato alcun filtro. Mettiamo anche la 109, già che ci siamo. Quindi, subtotale, 109, punta e virgola, cc. Chiudiamo le parentesi. Invio. Ok. Adesso mettiamo che noi vogliamo fare un calcolo solo ed esclusivamente per le cose vendute a maggio. Quindi solo queste. Cosa devo fare? Devo inserire filtri, CTRL, SHIFT, L. Eccoli qui. Seleziono questi tre. Doppio clic così a largo. Vado qui, mesi. Spunto via tutto e seleziono solo maggio. Ok. La funzione somma, come vedi, continua a sommare tutto. Anche i valori nascosti. Mentre la somma con il subtotale, sia la 9 che la 109, danno un valore differente. Perché? Perché non tengono in considerazione i dati filtrati via. Entrambe fanno questo. È importante. È la peculiarità sta proprio qui che entrambe, a prescindere da quale tu stia utilizzando, escludono i valori filtrati via. Adesso, per esempio, togliamo via tutto. Nascondiamo solo questo. Ecco qui. Il valore appena nascosto viene escluso dal calcolo della funzione 109, mentre la funzione 9 continua a tenerlo all'interno del calcolo. Adesso abbiamo un problemino, perché nel sito della Microsoft non è chiaro. Non è chiaro in italiano e non è neanche un errore di traduzione. Se io dovessi applicare i filtri, quindi mettiamo di nuovo tutto maggio. Ok. Intanto la riga che ha nascosto me l'ha scoperta. Non so se si vedeva, ma abbiamo nascosto la 5, quindi applichiamo il filtro. Ecco qui la 5 è di nuovo presente. Quindi ha praticamente messo scopri in automatico. Ci danno lo stesso risultato, ovviamente. Proviamo anche con una somma punto se. Intervallo questo punto e virgola criterio solo maggio. Intervallo di somma questo. Facciamolo così, abbiamo un riscontro. Sappiamo, ecco, questo è maggio. Proviamo a nascondere di nuovo la riga 5. Guarda che succede. Nascondi. Mi cambia il valore in entrambe. Sia nella 9 sia nella 109. Io mi aspetterei dalla 9 questo valore qui. Non me lo dà perché una volta che applichi il filtro, tutto quello che nascondi è come se venisse filtrato. E la funzione 9 si comporta come la 109. Cosa che, stando a quello che hanno scritto, anche in inglese, ripeto, quindi non hanno sbagliato traducendo, perché ogni tanto lo fanno. Sembra difficile da credere, ma sì, la Microsoft sbaglia. La 9 e la 109 in questo caso si comportano in maniera identica. Perché? Perché è stato applicato un filtro, se io tolgo il filtro, posso dirlo in più modi, o seleziona tutto, o cancella filtro. Cancelliamo. Mi ha scoperto di nuovo la 5 in automatico, vado a nasconderla. Ecco qui. Quando il filtro non è applicato, la 9 si comporta come la descrizione e la 109 si comporta come la descrizione. Applicando il filtro, riapplico di nuovo, maggio, sì, 5, nascondi. Ecco qui. La 9 si comporta come 109. E non dovrebbe farlo. Dovrebbe fare questo. Concludendo. Quale di queste due utilizzare? La versione normale o la versione con il più 100? Io tendenzialmente opto per quelle con il più 100. Tu comunque, se usi queste, ricordati che una volta applicato il filtro, tengono conto anche dei valori nascosti manualmente, ma solo se applichi almeno un filtro. O perlomeno questo piccolo bug è presente nella mia versione, ricordo che ho la 2013. Non so se sia presente anche nella tua versione, ti consiglio di provare, tanto è abbastanza facile accorgersene. Prima di concludere, ti ricordo che tutte quante queste funzioni, sia le normali, sia le più 100, e chiamiamole così, sono state pensate per operare con dati impostati in maniera verticale e non in orizzontale, ovvero così. La peculiarità di queste funzioni è che lavorano in sincronia perfetta con i filtri, il che può essere un vantaggio, e noi ci vediamo nel prossimo video dove vediamo invece lo strumento subtotale che io personalmente uso molto di più della funzione.